Il Mediterraneo registra una nuova intensificazione di sbarchi di migranti sulle coste italiane e anche la provincia di Pesaro Urbino si attrezza per individuare strutture destinate all'accoglienza temporanea di migranti rispondendo alle più recenti leggi governative in materia di ripartizione territoriale della macchina dell'accoglienza. Un piano d'azione che il prefetto Emanuela Savera Greco ha già avviato nel weekend confrontandosi con i presidenti degli ambiti territoriali e sociali e che continua con i sopralluoghi nei territori per individuare le soluzioni più adeguate. Un piano che è strutturato sotto diversi profili, intanto adesso sentirò i sindaci e devo dire veramente li ringrazio perché quelli che ho già sentito mi hanno messo a disposizione già degli alloggi, sentirò tutti i sindaci uno per uno e insieme a loro troveremo delle sistemazioni, delle abitazioni per le donne, gli uomini, i bambini, i ragazzi, per tutti coloro che fuggono da posti e da violenze indicibili e che abbiamo il dovere come esseri umani di accogliere. Io penso che sia fondamentale l'integrazione ma non a parole, l'integrazione nei fatti quindi adesso andrò in settimana in un comune dove sono arrivati appunto sei migranti, quattro donne e due uomini e andrò di persona a rendermi conto di come sono accolti e delle possibilità che abbiamo per poterli integrare al meglio.